Eccoci qua, siamo a Dinduno Olona, lungo la strada che risale verso l'abitato di San Fermo e qui, come d'incanto, appare questa bellissima chiesa, la chiesa di San Pietro in Silvis, risalente tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo, una delle più antiche di tutta la Val Ceresi, immersa nel silenzio e nel verde. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.